La palla canestro Cantù batte Verona dopo una partita combattuta e si aggiudica l'edizione 2024 del Trofeo degli Angeli. La sfida, disputata a Seveso, è terminata con il punteggio di 87 ad 81. Partenza decisa di Verona che da subito si mette al comando della partita, Cantù però recupera effetto al sorpasso e riesce ad allungare. Finale di gara combattuto, ma sono i liberi di Valdirossi a chiudere la contesa. Il match, come detto, finisce 87 ad 81. È stata una bella partita, vera e contro una squadra forte come Verona. Si è giocato ad alta intensità e siamo stati bravi per lunghi tratti, soprattutto nella ripresa, quando si è dovuto fermare piccoli e le rotazioni nelle guardie si sono accorciata, ha commentato coach Nicola Brienza, tecnico dei Brianzoli. Dobbiamo togliere qualche errore, non necessario, qualche palla persa e miene qualche situazione da gestire meglio in alcuni momenti. Abbiamo ancora un'altra settimana di Precision per lavorare e migliorare ancora, ha concluso il tecnico, per cercare di essere i più performanti possibili in Supercoppa.